Assessore, si susseguono gli eventi sportivi nella città di Pescara, ancora vivo il ricordo del passato weekend. Intanto, nel prossimo fine settimana ci sarà la Maratona d'Annunziana. Oggi siamo qui per presentare la 24esima edizione della Maratona d'Annunziana, ormai una classica dell'autunno pescarese. Parliamo di 1500 atleti provenienti da tutto il territorio, un evento podistico che nel corso degli anni si è arricchita di iniziative collaterali, ma soprattutto di una sana collaborazione da parte delle associazioni del nostro territorio che hanno fatto sì che la Maratona d'Annunziana diventasse una vera festa dello sport, della solidarietà, dell'inclusione. Ecco, proprio su questo, Assessore, ci saranno importanti collaborazioni con la Lilt, ma non solo. Abbiamo collaborazioni con la Lilt, ma anche SOS Autismo. Infatti ricordo a tutti di partecipare sabato 28 all'inaugurazione del villaggio della Maratona con una passeggiata inclusiva, proprio dedicata alla Lilt e SOS Autismo. Sabato si parte con una bella passeggiata inclusiva con tutte le associazioni solidali di Pescara, che ringrazio veramente per come hanno risposto. e poi le gare bambini in una piazza come Pescara sono centinaia che verranno suddivisi in 12 categorie e tutti faranno le loro gare e poi verranno sempre sabato pomeriggio alle 18 premiati sul palco e saranno i primi a prendere la medaglia che oggi presenteremo dell'evento. Domenica mattina si parte alle 9.25, partiranno i pattinatori sempre da Piazza Salotto e a seguire subito dopo alle 9.30 parte la Maratona e la Mezza Maratona e quest'anno abbiamo dovuto scindere quello che l'anno scorso era stata una scommessa, la Ten and Half, che è una passeggiata, corsa, qualunque cosa uno voglia fare, di 10 chilometri e mezzo, che è partita in punta di piedi l'anno scorso con un centinaio di passeggiatori pescaresi. E' stato proprio il modo per coinvolgere il pescarese, farlo scendere e vivere questo evento. Quest'anno abbiamo già chiuso a 300 iscritti.